Torna a crescere il numero dei contagiati in Puglia, cala invece il numero dei decessi. I sindacati dei medici in provincia di Brindisi scrivono una lettera di accusa sulla gestione dell'emergenza da parte dell'ASA di Brindisi. Al centro degli attacchi la direzione generale. Spesa a domicilio ma anche frutta e verdura che per colpa dei prezzi escono dal paniere dei consumatori. Come cambiano le abitudini e la tavola degli italiani ai tempi del coronavirus. Serie C, la proposta della Lega, stop al campionato, promosse le prime tre e sorteggio per la quarta che andrà in via. E' caos, c'è già chi dice no. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati alla nuova edizione del nostro OTG. Torna a crescere leggermente il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Puglia. Oggi sono 120 su 2.175 tamponi seguiti. Ieri erano 82 su 2.145 tamponi. Cala invece il numero dei decessi. Questo è l'ultimo dato del bollettino regionale. Torna a crescere leggermente il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Puglia. Sono 120 su 2.175 tamponi eseguiti. Ieri erano 82 su 2.145. Cala invece il numero dei decessi. Ne sono stati registrati due. Uno in provincia di Foggia, l'altro nel Brindisino. Complessivamente le vittime del Covid in Puglia sono 316. Delle nuove infezioni, 35 si sono registrati nella provincia di Bari, 0 in quella di Bat, 27 nella provincia di Brindisi, 30 nella provincia di Foggia, 8 nella provincia di Lecce, 3 nella provincia di Taranto. Un caso di un cittadino fuori regione. Mentre per 16 casi la provincia è in corso di attribuzione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 42.598 test. Sono 427 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.529. E continua a salire il tasso di mortalità in Puglia, il numero di deceduti per ogni 100.000 pugliesi ed ovviamente sale anche il tasso di mortalità Covid. A maggior ragione quindi il dato pugliese è comparato con altre regioni del sud e anomalo e dunque va indagato. Lo hanno sottolineato i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Enrico Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo. Secondo i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia la maggiore mortalità ha una spiegazione nella tardiva presa in carico della persona per assenza di assistenza a domicilio, ritardi nelle effettuazioni di tamponi e dei relativi risultati e carenza di saturimetri. Ed ora parliamo del numero complessivo invece delle persone contagiate a Francavilla Fontana che è salito a 22. Lo ha comunicato in serata il sindaco di Francavilla Antonello Denuzzo. Il sindaco si sofferma poi sulla possibilità di apertura del mercato settimanale del sabato. In proposito il letto ha spiegato Denuzzo parole fuori luogo irresponsabili usate da alcuni. In questi casi il pericolo per la salute pubblica è rappresentato non soltanto dalle occasioni di contagio che potrebbero verificarsi all'interno di questi luoghi anche nel cimitero che è chiuso ma da tutto il movimento che si innescherebbe inevitabilmente per le strade della nostra città. In particolare prosegue il sindaco per il mercato si tratta di assumere decisioni complesse che devono tenere conto delle sue dimensioni, della sua attrattività e della circostanza che si svolge nel cuore del quartiere peschiera. Il sindaco ha poi rivolto un pensiero anche alla categoria dei parrucchieri e delle estetiste. Più esattamente dice il sindaco mi riferisco a coloro che disprezzando se stesse e gli altri proseguono a ferma Denuzzo illecitamente queste attività. E parliamo invece di un altro rischio, quelli del relativo agli assembramenti intesa, comune, polizia e poste. Queste immagini registrate dalle nostre telecamere in diverse giornate e dinanzi a diverse filiali delle poste italiane mostrano la situazione file nella città di Taranto. Il clima pare disteso e le file ben disciplinate, tuttavia numerose sarebbero le segnalazioni che giungono al comune di Taranto ma anche ai poliziotti e alla polizia locale. Così il questore di Taranto Bellassai, il responsabile della sicurezza di poste italiane e l'assessore alla polizia locale Cataldino, hanno deciso di fare il punto in videoconferenza. Sono stati condivisi alcuni interventi. La definizione di corridoi esterni affinché gli utenti possano attendere distanziati in fila indiana e la disponibilità delle forze dell'ordine ad intervenire qualora si creino situazioni di non contenimento delle persone. Sì, perché il rischio assembramenti resta alto, così è meglio prevenire che curare. Abbiamo raggiunto un accordo sulla modalità degli interventi e su come chi si reca l'ufficio postale deve porsi all'esterno degli stessi. Questo perché gli assembramenti sono un problema non solo relativo agli uffici postali ma a tutti quegli esercizi verso i quali si portano tanti cittadini di Taranto. Dobbiamo fare ancora uno sforzo, un sacrificio. E approderà sui tavoli della Procura della Repubblica di Brindisi il video divenuto virale sui social che riprende il momento in cui due anziani vengono sanzionati dalla Polizia Locale di Brindisi, poiché in giro ma sprovvisti di valida motivazione. Il comandante Orefice sporgerà denuncia contro chi ha pubblicato quel video violando la privacy e non tutelando i soggetti coinvolti mettendo in rete ciò che non era di interesse pubblico. Tutto approderà in Procura. Parola del comandante della Polizia Locale di Brindisi Antonio Orefice a seguito della diffusione incontrollata nella rete di un video che ritrae il momento di una scena di ordinaria amministrazione per gli agenti che sanzionano due anziani signori rei di non avere una valida giustificazione mentre erano in giro e si gustavano una birra all'uscita da un esercizio commerciale. Ma la notizia non è di certo la sanzione, così come abbiamo precisato nell'apertura del nostro Tg dominicale condotto dal collega Michele Iurlaro, ma il fatto che venissero violate le sacrosante regole del rispetto della privacy di comuni cittadini, compresa anche l'immagine degli stessi agenti. Il comando di Polizia Locale contesta infatti la sola diffusione del materiale e cercherà di risalire attraverso l'ausilio della Polizia Postale a chi per primo lo ha reso pubblico. Saranno denunciati poi anche coloro che hanno insultato le divise commentando in maniera inopportuna il video. Naturalmente anche gli anziani sanzionati hanno a loro modo oltraggiato gli agenti, ma questo è altro. Come già ribadito, non entreremo neanche questa volta nel merito della sanzione, ce ne guarderemo bene per noi la notizia è solo quella che vi abbiamo appena raccontato. Pertanto non vi mostreremo il video che ha fatto il giro del web mettendo a repentaglio la privacy degli interessati, perché non possiamo permetterci di essere incoerenti dopo aver sostenuto anche la legittima posizione di ad hoc brindisi e soprattutto perché riteniamo che rispetto delle regole, in questo caso quello della privacy, non sia un concetto filosofico ma concreto ed attuabile. Sempre che si voglia essere ligi alle regole e coerenti dopo le parole anche con i fatti. Occhio alla temperatura anche in strada. Da questo weekend la polizia locale di Francavilla Fontana si munisce di termoscanna. Non solo droni per controllare le strade, ma anche termoscanner per misurare la temperatura dei cittadini e persino un registro sugli spostamenti. Misure orwelliane nella città in imperiali dove grazie alla donazione della locale società operaia la polizia locale è pronta già dalle prossime ore a misurare la temperatura corporea dei cittadini controllati in strada per, spiegano, verificare le loro condizioni di salute. Di più è quasi pronto un moderno software che permetterà di rilevare le presenze di controlli effettuati ad ogni singolo cittadino sul territorio per verificare il rispetto dei divieti e delle prescrizioni. La donazione dei termoscanna ad opera della società operaia di mutuo soccorso andrà ad aggiungersi ad una serie di azioni che il comando di polizia locale, in prima linea in questa emergenza, ha messo in atto per rendere più efficace il controllo del territorio e tutelare la comunità. Si parte già da questo weekend. E una grande e densa nube di fumo ha riempito il cielo. Questa mattina a San Giorgio Ionico ci spostiamo nel Tarantino, sulla strada che collega il paese a Grottaglie, di fronte proprio all'ingresso del cimitero comunale, si è sviluppato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un terreno utilizzato imprevviamente come discarica abusiva. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'accaduto, ma non si esclude al momento alcune ipotesi. E l'associazione del professore Minelli riceve consensi anche dalla Basilicata e dalla Campania per scovare gli asintomatici. Il test è l'unica soluzione. Scovare gli asintomatici sembra essere questo ormai l'imperativo che potrebbe traghettare il paese nella fase 2 e gestire l'emergenza coronavirus. Intanto sul territorio il professor Minelli, alla guida dell'associazione Tutti Uniti per la Vita, lancia l'appello alle istituzioni e agli imprenditori affinché sostengano il lavoro dell'associazione diventata emblema a livello nazionale di un impegno pionieristico. C'è un allargamento della richiesta, nel senso che la richiesta è partita da comuni salentini, si è allargata ad RSA salentine, poi sono arrivate RSA che risiedono e sono ubicate anche in altre province della regione Puglia. Adesso stanno arrivando anche le richieste di supporto per kit diagnostici da parte di alcuni comuni della Basilicata. D'altro canto i 400.000 kit messi a disposizione del governo non possono evidentemente essere tali da poter in qualche modo soddisfare tutte quelle che sono le esigenze del territorio. Se potesse fare un appello a chi si rivolgerebbe? Mi rivolgerei a tutti, mi rivolgerei intanto a quelle persone che possono avere maggiore facoltà di supportare, non soltanto alle persone, anche alle imprese, anche alle aziende, anche a soggetti politici, perché no, ad amministratori, eventualmente a soggetti dello spettacolo. Mi rivolgerei a tutti perché il problema è di tutti. Noi, lo dico qui chiaramente, noi non somministriamo kit, noi non vendiamo kit, non siamo autorizzati a farlo. Di conseguenza ci disponiamo appunto a distribuirlo a quelle realtà che invece possono farlo. È chiaro che ora abbiamo bisogno davvero del supporto di tutti e quando vi dico di tutti, dico davvero di tutti, dal singolo cittadino, dalla singola famiglia, alla persona che più di altre, voglio dire, o all'entità che più di altre può davvero fornire un supporto per una causa comune. L'estate 2020 rischia di essere ricordata come una stagione senza eventi. Il nostro servizio. La primavera e l'estate sono le stagioni degli spettacoli e degli eventi. I primi possono avvenire anche nelle piazze come le feste patronali che caratterizzano il nostro territorio, ma nelle stesse aree spesso e volentieri si tengono spettacoli di danza o di teatro che ci riuniscono ad ammirare quella che a tutti gli effetti è una delle massime espressioni dell'arte. Tutto questo però rischia di non esserci in un anno il 2020 che sarà senza eventi. Ne abbiamo parlato con Freddy Franzutti, coreografo e regista Salentino e con Graziano Cennamo, presidente di Puglia Armonica. Solo nel Salento i danni stimati sono pari a 19 milioni di euro, perché la provincia di Lecce è quella con più comuni e quindi anche con più eventi legati alla tradizione popolare. Ma chi fa questo di lavoro e ha obiettivi professionali, comunque ha delle tutele. Il danno non è la parte economica, perché se no si svilisce l'arte. Il danno è la mancanza dell'arte, questo è il vero danno su cui bisogna piangere. Intorno a questi due mondi c'è un indotto che permette a tante famiglie di vivere e che adesso rischiano di vedere il loro futuro ricco di incertezze. Quello delle luminarie, quello delle band musicali, agenti di spettacolo, service, titte pirotecniche sono aziende che ruotano solo ed esclusivamente intorno alla festa patronale. Quindi se la festa patronale nei nostri comuni non si può svolgere, queste aziende soffrono maggiormente proprio perché non si possono riconvertire. Perché l'evento era quella cosa legata un po' a un momento mondano che raggruppava tante persone anche con un atteggiamento frivolo. Per fortuna le stagioni culturali avevano già eliminato questo termine che potrebbe invece ritornare in voga se lo pensiamo come E-20, nel senso che 20 potrebbe essere il numero massimo dei partecipanti a un incontro. Perché avevo visto anche che l'ultimo decreto prevedeva appunto un incontro massimo tra 20 e 100 addirittura. Quindi si spera eventualmente, forse per il grande spettacolo di balletto sarà più difficile, però si spera che un incontro culturale con un gruppo di persone che appunto fa tra 20 e 50 potrebbe essere in estate già previsto. La mente di tutti va ovviamente verso quella che potrebbe essere la ripresa, che però potrebbe avvenire già nel prossimo autunno, anche se la speranza per l'estate è l'ultimo a morire. Ovviamente le feste che si svolgeranno nei prossimi giorni non possono più essere organizzate. C'è un varlume di speranza per la festa della nostra città che si svolge, come ben sappiamo, dal 24 al 26 agosto. Ancora c'è questa possibilità che dobbiamo necessariamente giocarci e sperare. Diciamo che la data possibile oggi e gli ultimi appunto i decreti vedono in dicembre l'apertura dei teatri, addirittura nella primavera dell'anno successivo, quella dei grandi spazi come gli stadi. Però immaginiamo anche che invece per lo sport, quindi per le scuole di danza, per piccoli gruppi, addirittura un mese o un mese e mezzo. Se i contagi aumentano bisogna ritornare tutti quanti chiusi in casa, è inutile fare finta che non sarà così. Quindi bisogna sperare veramente e ovviamente e solamente la data della scoperta del vaccino ci potrà dire che è finita. Pion a quel momento viviamo, navigiamo a vista. E speriamo bene anche per quanto riguarda il vaccino. Spese a domicilio e poca frutta e verdura compressi però alle stelle. E vediamo come cambiano le abitudini alla tempo del coronavirus. Continua l'emergenza coronavirus, i supermercati vengono presi d'assalto. Tra l'altro molti supermercati per garantire le norme di sicurezza, quindi il distanziamento all'interno dell'attività commerciale, l'uso delle mascherine, l'igienizzanti, si sono organizzati anche con le consegne a domicilio. Andiamo a vedere cosa comprano le cesi, cosa chiedono come consegne a domicilio e quali sono gli alimenti che hanno avuto un maggiore aumento in questi giorni. Allora, voi vi siete organizzati con le consegne a domicilio. Cosa vi chiedono maggiormente? Maggiormente ci chiedono le farine, il lievito di birra, il lievito per pizza, mozzarella, cose per i dolci, ingredienti per i dolci, perché adesso stando a casa molte persone, molte famiglie fanno dolci oppure il pane, quindi c'è un molto consumo di questi generi. Abbiamo notato che c'è stato un aumento di quelli che sono gli ortaggi e la frutta. La frutta, ovviamente gli ortaggi, quelli che non sono di stagione, tipo le zucchine, sono schizzati, però in genere c'è stato un aumento. Sì, abbiamo trovato un po' di aumenti sui peperoni, melanzane, zucchine, ma quello fa parte anche della stagione. Cambiata l'abitudine delle cesi, nel senso adesso si tornerà poi a fare la spesa personalmente nei centri commerciali o ci siamo ormai abituati a chiamare e farsi arrivare la spesa a casa? In questo periodo è più comodo telefonare, farsi portare la spesa a casa, prendono più cose e non lo so se in futuro ritorneranno in nuovo nei centri commerciali, nei centri grandi, però al momento i piccoli stanno lavorando bene. E un'altra bella e importante donazione per l'ospedale Moscati di Taranto. Non si arresta la straordinaria onda di solidarietà e vicinanza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, il Covid Center del capoluogo ionico. Questa volta a intervenire è stato il comune di Palagianello, che ha aperto una call agli imprenditori. In tanti e rapidamente hanno risposto, così è stato possibile acquistare non uno ma ben due ventilatori polmonari, macchinari utilissimi in questi reparti, nel caso specifico è stato scelto pneumologia diretto da Giancarlo Dalagni. A consegnarlo sono state direttamente il primo cittadino, Maria Rosaria Borracci, e l'assessore ai servizi sociali Adelaide Galanti. La situazione contagi nel più piccolo comune della zona occidentale della provincia ionica resta fortunatamente stabile. In ogni caso, per una massima precauzione, il primo cittadino aveva deciso già dall'inizio di regalare le mascherine ad ogni famiglia. Noi abbiamo regalato le mascherine ad ogni famiglia di Palagianello e poi naturalmente ci siamo impegnati per fare quest'altro gesto di umanità. Ma questo per ringraziare più che altro, per dare noi palagianellisti un sogno tangibile a tutti quelli che stanno lavorando affinché venga sconfitta questa pandemia. È fondamentale il trattamento ventilatorio. Noi gestiamo i pazienti di un determinato tipo di patologia Covid, cioè sono gli step 3 e 4, quelli diciamo nelle fasi più avanzate di patologia, dove l'insufficienza respiratoria domina la sintomatologia. Questi ventilatori ci consentono di dare il tempo alle terapie mediche di essere efficaci. Ed ora torniamo ad occuparci delle residenze socio-sanitarie. A preoccupare è sempre la casa di riposo di Soleto nel Salento. Sale ancora il bilancio degli ospiti dell'RSA alla Fontanella di Soleto. Risultati positivi al tampone, poi deceduti in seguito al contagio da Covid-19. Attualmente sono 14 gli anziani deceduti nella casa di riposo gestita dalla ASL da circa 25 giorni. Le ultime due vittime del virus maledetto sono due, un uomo e una donna, che erano stati ricoverati in ospedale dopo essere risultati positivi al Covid. Morti a distanza di un giorno l'uno dall'altra. Prima che il 21 marzo scoppiasse l'emergenza, erano più di 90 gli anziani ospiti. Attualmente ne sono rimasti 21. Sottoposti nelle scorse ore al tampone, 17 sono risultati negativi e 4 positivi. Al Dea di Lecce sono ricoverati ancora altri ex ospiti della casa di riposo con problemi respiratori. Sulla drammatica situazione venutasi a creare dopo il primo caso della 95enne di Serrano, poi deceduta, è in corso l'indagine della Procura a seguito degli esposti presentati dai familiari degli anziani ospiti. Mentre la magistratura continua il soccorso, la casa di riposo di Soleto dovrebbe a fine mese tornare nelle mani private, cessando così il periodo di commissariamento dell'ASL. Ed ora una quarantena resa più dolce a Taranto dal dono di un imprenditore. Gelati per tutti nei quartieri Tamburi e Salinella. Un pensiero speciale per le famiglie dei quartieri Tamburi e Salinella. Più precisamente un pensiero fresco e dolce, soprattutto per chi ne ha più bisogno. L'idea è di Mario Fiamma che gestisce nella zona industriale della vicina state una distribuzione di un noto marchio di gelati. A scendere in campo, ancora una volta, sono stati gli instancabili volontari della protezione civile di Taranto, coordinati da Raffaele Russo. Il mio ringraziamento a tutti i volontari che vedete anche oggi in parte presenti, che comunque avranno anche oggi la soddisfazione di dare qualcosa a qualcuno. Un ringraziamento particolare al signor Fiamma che è venuto con il suo camion dell'Algida. Abbiamo già promesso cartoni di gelata a tutte le famiglie. Abbiamo dato un buono, scenderanno in ordine, anche nel rispetto di quelle che sono le norme che regolano la distanza e la sicurezza in queste occasioni. Quindi io devo ribadire, distribuivamo dei computer, abbiamo da consegnare delle mascherine, insomma non ci facciamo mancare niente per poter dire a tutta la città che noi siamo a loro disposizione. Questi esempi ci insegnano che la quarantena ha anche il suo lato dolce. Anche i più indaffarati possono scoprire il calore di casa e riscoprire gli affetti. Quelle sensazioni, quelle emozioni che diamo per scontate, ma sono fondamentali, soprattutto in periodi di crisi. Una quarantena che ci sta insegnando quanto è importante voler bene agli altri, più che a noi stessi. Un bel regalo veramente. A Sava invece è una città a misura di bambini su internet per permettere anche ai più piccoli di utilizzare il web come forma di svago in questi giorni. La città dei bambini. A Sava ha un progetto interamente virtuale sul web per permettere ai più piccoli di divertirsi. In questo momento storico di lockdown, ma anche quando l'emergenza coronavirus sarà alle spalle. Il progetto è stato lanciato un paio di giorni fa dall'amministrazione comunale di Sava, in collaborazione con l'Associazione Culturale Passeggeri del Tempo. Un portale sul quale i bambini, in collaborazione con genitori o fratelli, potranno divertirsi a disegnare la giunta dei più piccoli, ad esempio inviare temi, pensieri e riflessioni. È un'iniziativa che abbiamo pensato di adottare per venire incontro alle famiglie e poi soprattutto ai più piccoli. È un'idea che ci è piaciuta, ci è stata proposta da un'associazione e l'abbiamo subito condivisa e abbiamo lavorato insieme all'assessore alla cultura e alla pubblica istituzione per Dianatoma per dare luogo a questa piattaforma, a questo sito praticamente. C'è il sito che ogni giorno pubblica dei temi, degli stimoli e i bambini poi partecipano con le loro attività. È una cosa che ci è piaciuta perché la didattica dal punto di vista della telematica sta funzionando, quindi le scuole, gli insegnanti stanno facendo un grande lavoro e i nostri bambini comunque sono impegnati, ma abbiamo pensato che potesse essere utile anche muoversi dal punto di vista del gioco, del divertimento per i bambini. Siamo ancora all'inizio, io non immaginavo che ci potesse essere tanta attenzione, ma sono felice di questo perché abbiamo cercato di essere sempre vicini ai bambini e ai più piccoli. Ci sarà questa definizione dell'aggiunta e poi le altre iniziative, ma andremo avanti ancora per molto, sperando però che i bambini quanto prima possano uscire, che si sblocchi questa situazione. E cambiamo argomento, da più parti si esprimono perplessità in merito alla manovra della Regione Puglia da 450 milioni di euro. Parte consistente della riprogrammazione delle risorse FSC e del patto per la Puglia, pari a 270 milioni di euro, così come previsto dalla delibera di giunta dell'8 aprile scorso, che prevede manovre di contrasto alla crisi da coronavirus in Puglia, deriverebbe dall'utilizzo di tutti i fondi destinati alla Talsa Nuovetrana. La Regione non pensi di attingere ai fondi già stanziati per la realizzazione del secondo e terzo lotto della strada regionale 8. A dirlo sono i consiglieri regionali Gianni Liviano, Donato Pentasuglia e Fabiano Amati. Il rischio è troppo alto perché si tratta di un asseviario, dicono, di estrema importanza che permetterebbe il collegamento del capoluogo con i comuni del versante orientale della provincia, un'opera fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del versante est, una direttrice di collegamento interna necessaria per decongestionare il traffico costiero nei periodi estivi e per raggiungere più velocemente in sicurezza le marine di Leporano, Pulsano, Manduria, Lezzano, Torricella e Marugio, ma anche per l'economia legata alle produzioni locali di tutti i comuni dell'area orientale. Nel caso specifico si sta parlando di circa 240 milioni di euro finanziati, ricordano i tre consiglieri, con fondi FSC e della Regione che, se utilizzati altrove, sancirebbero la fine di un importante progetto. Sulla stessa linea sono i segretari generali di CGL, Cisle, Will di Taranto, rispettivamente Paolo Peluso, Antonio Castellucci e Giancarlo Turi, un'opera che si porta avanti ormai da 30 anni senza vedere la fine. Le organizzazioni sindacali chiedono un incontro urgente all'assessore regionale, allo sviluppo economico Borracino e a tutti i consiglieri regionali. Al contrario, sottolineano i tre, bene si è mossa la provincia di Taranto, che ha impresso un'accelerazione per la realizzazione dell'opera, completando nel corso del 2019 tutti gli aspetti procedurali, dubbi e perplessità che arrivano da più fronti, anticipati diversi giorni fa dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, che chiedevano maggiore chiarezza, che nel frattempo a quanto pare non è arrivata da parte della Giunta regionale. Risponde ai diversi interrogativi nelle ultime ore, proprio l'assessore Borracino, che parla di un'opera di rilevanza strategica per la Regione. Nessun definanziamento, anzi esiste, come è noto, un apposito stanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di circa 193 milioni di euro. Fu cura della Regione già nel 2016, ricorda, chiedere e ottenere dal Governo nazionale fondi per completarla. E ora parliamo di sport, calcio, bloccare il campionato di Serie C e fare un sorteggio per la quarta promozione. La proposta della Lega Pro, preoccupata anche la Lega Nazionale di Lettanti. Tre promozioni dalla Serie C alla Serie B, le prime di ogni girone, quindi Monza, Vicenza e Regina, per il raggruppamento meridionale. E poi una quarta promozione da decretare tramite un sorteggio e la proposta del Consiglio Direttivo della Lega Pro, che verrà ratificata nella prossima assemblea prevista per il 4 maggio. L'assemblea è sovrana e trasferirà la propria scelta alla FGC, che è il Dominus, e quindi prenderà la decisione finale. E questo è il commento del Presidente Ghirelli, che fa marcia indietro anche sulle possibilità di tornare a giocare. Hanno tutti la voglia di tornare in campo, sottolinea, ma dobbiamo essere realisti e mettere tutti quanti nelle condizioni, sanitarie ma anche economiche, di farlo. E allora la proposta è quella del sorteggio per la quarta promossa, con blocco di retrocessioni e la possibilità di veder salire dalla Serie D presumibilmente solo le prime di ogni girone, quindi nove squadre. Questo porterebbe a un organico a 69 club di base, che probabilmente verrà ridotto da qualche mancata iscrizione, che non verrà rimediata dai ripescaggi dalla D, che il Consiglio Direttivo di Lega Pro vorrebbe bloccare. Una bella grana anche per la LND, che adesso dovrà giocare già in anticipo la battaglia su ripescaggi e riammissioni in FGC, dove pare che la proposta della C sarebbe stata accolta tutt'altro che favorevolmente. E' la Virtus Francavilla favorevole allo stop del campionato. Sul sorteggio però il Presidente Antonio Magri dichiara che bisognerà decidere tutti insieme. E' d'accordo con lo stop dei campionati, del resto la Virtus Francavilla l'aveva chiesto già qualche settimana fa. Sul sorteggio invece il Presidente Antonio Magri, sentito subito dopo il Consiglio Direttivo della Lega Pro, dice che bisognerà decidere tutti insieme. Sì, allora diciamo che la cosa più importante che è emerso nel Consiglio Direttivo di ieri è questa, soprattutto la proposta di bloccare il campionato del C e di dichiararlo chiuso, che è quello che noi sosteniamo anche da tempo e vista l'attuale situazione sanitaria, ancora oggi è incertezza addirittura sulla data di riapertura del 4 maggio, e considerando anche l'evolverdi purtroppo il negativo della situazione economica che coinvolge anche tutte le nostre aziende e quindi anche l'azienda calcio, crediamo che sia assolutamente opportuno dichiarare chiuso il campionato e questo prima lo facciamo. E meglio è perché altrimenti andare avanti ci espone a maggiori problemi, a maggiori rischi. Quindi credo che questa sia la parte più importante che è stata decisiva dal Consiglio Direttivo di ieri. Poi c'è anche questa proposta di bloccare le retrocessioni, di far salire le tre prime classificate e quella poi del sorteggio della quarta. Qui chiaramente è un discorso diverso, un discorso che va approfondito poi in assemblea, che va ragionato secondo me anche a sistema, perché non possiamo deciderlo da soli in quanto poi questo genererebbe a cascata diciamo delle problematiche nelle altre leghe e quindi credo che questo aspetto vada un po' meglio approfondito sia da parte nostra in assemblea che da parte poi delle altre leghe quindi va ragionato e quindi non in un'ottica di sistema. Era la nostra ultima notizia, si chiude qui il nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e vi auguro buona serata. Grazie.